Allora, torniamo a raccontare cose del presente e volevo iniziare a farvi vedere un video che vi fa vedere un'esperienza già esistente di un bel progetto di uso di dati per un progetto di smart city e di controllo del territorio. Su questa slide poi ci torno dopo. Grazie a tutti. Il progetto FlaDIS è fondato sotto il programma del programma della Commission europea. Il progetto FlaDIS exploita i servizi di spazio europei e i servizi di gestione di emergenza, insieme con il crowdsourcing, in order to provide a better flood information for both emergency responders and citizens. Qui possiamo abbassare un po' la voce che a questo punto riintervengo. Abbiamo portato questo video perché ci sembrava l'occasione giusta per presentarvi questo progetto e per parlarvi di quello che Microsoft fa in Italia, grazie ad un programma che si chiama City Next, che è un programma lanciato l'anno scorso proprio in questa sede tra l'altro, che è un programma interessante perché nella grande discussione sull'uso dei big data parte da alcuni elementi abbastanza chiari. Attualmente in Italia, sul nostro territorio, esistono tantissimi strumenti che ci possono permettere di utilizzare le tecnologie esistenti per realizzare dei progetti che all'interno di comunità cittadine, regionali o anche nazionali possono avere un impatto importante. Questo è uno degli esempi. Microsoft ha lavorato con il proprio centro tecnologico di Torino, che è un centro di eccellenza dove lavorano otto persone su una tecnologia mobile e cloud computing, in particolare si occupano di mobile sensing e insieme all'istituto superiore Bolella ha creato una app gratuita che permette ai cittadini classificati a seconda anche del ruolo, quindi da cittadino semplice ad operatore della protezione civile, quindi specializzato, permette quindi ai cittadini nella gestione della loro giornata, della loro quotidianità, di monitorare alcune situazioni che possono essere previsionali di eventi di alluvioni. Come avete visto dai numeri, gli incidenti sono molto frequenti, gli incidenti sul territorio dovuti a cambiamenti climatici che conosciamo e negli ultimi anni sono tantissime le situazioni di emergenza che stiamo vedendo attraverso la stampa, ma anche sulla nostra pelle, nelle nostre regioni. Questa app è attualmente utilizzata, sia è stata testata in Albania, ma anche in una regione italiana che è il Veneto, che è una regione molto a rischio di alluvioni ed è un'app che permette sia di lanciare allerta, sia di far accelerare degli interventi sul territorio da parte della protezione civile e quindi delle autorità competenti. Ha il vantaggio di essere un'app che fa leva su una serie di progetti europei, che quindi sono stati semplicemente rielaborati, uniti per creare questa soluzione. È un'app che permette un'interazione efficace tra il cittadino e la pubblica amministrazione per affrontare delle situazioni di emergenza. Da dove si parte? Si parte da questo, si parte dal fatto che abbiamo intorno a noi una serie di strumenti che in questo momento ci aiutano tremendamente a realizzare questo tipo di progetti. L'Italia è un paese, probabilmente il paese in cui la mobility ha la maggiore applicazione, siamo dei fruitori di tutti gli strumenti di mobilità e siamo non solo fruitori ma anche possessori di tantissimi strumenti di mobilità. Abbiamo un'offerta di cloud e una copertura di cloud che di fatto permette di utilizzare questi dati all'interno di ambienti sicuri e capienti come può essere appunto il cloud. Siamo un paese in cui il social funziona. Abbiamo visto che in tutti gli interventi che ci hanno preceduto l'elemento che di fatto ci incuriosisce e ci incuriosisce perché efficace è sempre il motore che viene generato dall'uso dei social con i quali i cittadini interagiscono. Abbiamo i dati, abbiamo tantissimi dati, l'abbiamo appena finito di dire col professore e anche con il presidente dell'ISTAT. Abbiamo la possibilità di far interagire questi dati e di far interagire i cittadini, la pubblica amministrazione attraverso strumenti di ogni tipo e compreso appunto la gamification, abbiamo le stampanti in 3D. Abbiamo un ecosistema che ci permette di realizzare delle soluzioni. Il problema è appunto realizzare le soluzioni e Microsoft lo fa attraverso questo progetto, lo fa con l'aiuto di tanti partner sul territorio. Dove si vuole arrivare o quantomeno da dove si vuole partire? Si parte da dati abbastanza noti e anche un po' forti. Entro il 2050 il 75% della popolazione sarà concentrata nelle aree urbane. Per darvi dei numeri siamo a 3 miliardi e mezzo, arriveremo a 6 miliardi e mezzo di persone che abiteranno nei centri urbani e nei centri urbani dovranno essere fruiti i servizi che siamo soliti fruire, quindi la sanità, l'educazione, tutto quello che ci serve per vivere. Le città produrranno l'80% del PIL mondiale ma anche consumeranno il 60% dell'energia del mondo, consumeranno e produrranno rifiuti. Ovviamente produrranno confusione, ci sarà bisogno di migliorare le reti di trasporto, ci sarà bisogno di garantire la mobilità. Circa 100 miliardi di dollari sono stati spesi nel settore della tecnologia, quindi nelle soluzioni innovative nel 2014. Quindi partiamo da questi dati, partiamo da un'esigenza che esiste attualmente. Ci sono delle soluzioni che, come quella che vi ho fatto vedere precedentemente, che si chiama Fladis e che quindi vuole studiare i fenomeni degli alluvioni, possono aiutare la pubblica amministrazione a migliorare la gestione del territorio, dei propri cittadini e dei propri servizi. Durante questi giorni presenteremo, insieme ad altri partner, degli altri progetti interessanti. Uno di quelli è stato realizzato da un partner che si chiama ESRI, che ha creato una mappatura del rischio, che è un servizio attualmente presente in Milano, il Comune di Milano lo ha adottato, che è una mappatura interessante perché partendo da una serie di dati raccolti sul territorio e di dati pubblici, riesce a prevedere situazioni di rischio che richiedono un miglioramento di misure di sicurezza che vengono quindi predisposte sul territorio. È un'app che è stata utilizzata durante i sei mesi di Expo con molto successo e che il Comune di Milano continua ad utilizzare. C'è poi un'altra app che ci interessa anche menzionare, che è stata fatta con Proge Software. È un'app interessante per il mondo agricolo. È un'app che permette tramite il trattamento dei big data di prevedere dei fenomeni che metteranno in difficoltà gli agricoltori, i produttori agricoli per il loro raccolto, per la loro attività. E quindi gli permetterà di coprire quella difficoltà con delle polizie assicurative particolari. Anche in quel caso l'uso dei big data ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini. Migliora la vita dei cittadini e dei piccoli imprenditori. Mi ricollego ad un tema che è emerso durante il dibattito che abbiamo avuto fino ad ora, che è quello della sicurezza. È evidente che per avere un'app efficace, una soluzione efficace, occorre avere la certezza che i dati siano veritieri, siano integri, non siano manomessi. E il trade-off tra misura e sentiment è sempre molto complicato. Ci sono dei casi che conosciamo abbastanza recenti in cui la misurazione un po' asettica di certi dati per alcune finalità ha fatto sì che siano stati considerati non appartenenti al mondo umano, ma al mondo animale, esseri umani dalla pelle nera. Ci sono dei casi in cui i due aspetti della misurazione tecnico-statistica e della lettura dei dati etica è necessaria. C'è un aspetto però indispensabile che è quello della sicurezza dei dati. I dati ovviamente devono essere considerati non manomessi, devono essere controllati e quindi c'è una necessità anche di dare confidenza ai cittadini che ci sia il giusto rispetto della privacy dei loro dati e della loro vita. Ed è il motivo per il quale il lavoro di Microsoft è un lavoro ancora più serio e ancora più importante perché contemporaneamente alla necessità di aprirsi al territorio e progettare soluzioni per i cittadini si cerca anche di far sentire ai cittadini la giusta sicurezza relativamente ai propri dati e all'intero ecosistema di cloud che rimane l'architettura tecnologica che ad oggi permette la maggior parte delle attività necessarie per avere un giusto trattamento dei dati e una giusta elaborazione dei dati. Grazie.